Greci, il dramma di 50 famiglie prive di acqua potabile, macello chiuso, aziende al collasso, animali venduti o trasferiti altrove, un problema annoso che non vede soluzione. Sotto accusa finisce la regione Campania, cittadini ed amministrazione comunale uniti nella protesta. Nicola Iatta ha lasciato l'università per portare avanti la sua attività qui a Greci che oggi resta chiusa per mancanza d'acqua. La contrada si chiama Mazzincollo ma la vera mazzata è quella che sta subendo questa famiglia insieme ad altre almeno una cinquantina sparse lungo le zone di Barra Canale, Rex, Vigne Vecchie, Fontana Canestra e Fontana Babola dove l'acqua manca da una vita. La luce, almeno quella, arrivò anni fa grazie ad un intervento di Enzo Tortora a Portobello. Una struttura che sinceramente parlando, essendo un giovane, lavoro ce n'è poco, sacrifici di mio nonno, di mio padre, dei miei zii buttati al vento in quanto le leggi insomma sono cambiate a livello di sanità e del resto e purtroppo hanno chiuso in quanto l'acqua potabile non c'è e questa struttura non può funzionare come tante altre strutture. Un danno enorme? Un danno enorme sì, personalmente parlando sì, ma non solo, ma anche perché da ragazzo, da tanti discorsi che si fanno tra amici, tra persone adulte, discorsi che si fanno in televisione, lavoro, lavoro, occupazione, avere una zona industriale in questo stato senza acqua potabile, senza fognature, la luce è arrivata per... Eh vabbè, tanto tempo fa, siamo insomma un bel po' rovano e tucci. La struttura è funzionante, c'è tutto, c'è il frigorifero funzionante. Cioè da domani mattina si potrebbe partire a lavorare se ci fosse l'acqua, non c'è l'acqua e siamo fermi. Lei ha fatto sacrifici qui? Sacrifici, mi si dice, sto pagando ancora le tasse, sacrifici, ma non è... Prima io ho fatto il maceraio della vita, maceravamo le tamme sotto e i ciodi arrugginiti, ma adesso io non mi spiego una cosa. Qua siamo stati autorizzati, quanto ho voluto dare l'autorizzazione, ce l'hanno dato? Un bello momento? No, se non c'è l'acqua potabile, non lo sapete che l'acqua non è ingestata mai. E un viaggio d'acqua costa 100 euro? Non vuoi andare avanti, non vuoi andare avanti. La situazione non cambia nel resto della contrada dove la gente protesta insieme al sindaco. Male, male. Poi pure la strada che teniamo qui, che ci viene troppo polvere, noi ci abitiamo, non posso spandere i panni e proprio ci affoghiamo. E non è giusto fare così queste cose. Senza acqua è proprio un disastro. E ancora molto, ci manca tutto quasi. Teniamo solo il telefono, la corrente, quando l'andiamo a pagare, poi basta. Non teniamo niente più, ci pigliano pure in giro le persone. E queste cose abbiamo bisogno della contrada nostra, perché stiamo indietro, sia dell'acqua potabile, sia dell'accessore, queste cose qua. È stata già una battaglia anni fa per avere la corrente, o no? È stata una battaglia, è stata una guerra. Io dico solo una cosa, siamo andati alla luna, a Marte, e questa zona è stata sempre dimenticata. Un macello là l'hanno chiuso. Con tanti soldi spesi, non ci arriva la fine. Io non lo so, non lo so, non lo so. Non mi rendo conto, perché i 76 anni, i sacrifici che ho fatto sono giù tutti al mare. O che vuole fare la faccina? Che vuole fare? Certo. E no, niente, noi abbiamo venduto pure gli animali, perché andavamo al pozzo con il secchio per tenerli, per fare sacrifici. però viene a mancare pure la salute, e allora la comodità, come è bene per loro, dovrebbe essere anche per noi un certo che di cose. Non è che voi ce la mantano gratuita, eh. Non sapete che cosa vuol dire l'acqua qui? Ma niente, abbiamo un pozzo di 5 metri, che ci sono 9 famiglie che distribuisce quel pochettino che si fa nell'acqua. nel pozzo, e basta. Quando non ce n'è più, dobbiamo andare in giro. Chi ha la possibilità, con il trattore, con i mezzi, che purtroppo, e se no, quando viene a piovere, Dio pensa. È la verità. Non è che... Non è che dici una verità. Sì. Sono anni che ci prendono in giro, solo in periodo elettorale. Adesso arriva l'acqua, quella e quell'altra. Passato il periodo elettorale, arrivederci e grazie. Noi stiamo dentro all'immondizia, con queste paleoliche che fate passare qua. Il comune di Ariano non ha dato l'autorità. Il comune di Greci neanche. Vogliamo vedere che cosa... Amico, possiamo stare nell'immondizia. Fra 8 giorni, 15 giorni, faccio venire l'Arpa da Avellino. Perché non si può stare più. È un problema che viene da lontano, ma che vi vede uniti su questa battaglia. Sì, l'amministrazione è in tutta unita rispetto a questa battaglia. Noi abbiamo cercato già da tanti anni di affrontare il problema con una progettazione che è partita già dal 2004. E fortunatamente c'era stata questa possibilità di finanziamento che il sindaco ha detto nel corso di uno degli ultimi consigli comunali. E cioè che praticamente il Ministero dell'Ambiente aveva finalmente sbloccato questi fondi. E quindi questo problema, molto importante perché riguarda queste famiglie, ma riguarda anche la zona Valle, che è una zona a carattere industriale, che mancando praticamente l'acqua non può effettivamente partire, finalmente si sbloccava una situazione molto grave. Ho preso dai giornali, perché ci eravamo resi conto che questo finanziamento che doveva arrivare a inizio anno, e che il sindaco ha detto che a breve sarebbero partiti i lavori, non partiva. Poi attraverso i giornali ci siamo resi conto che i fondi praticamente erano bloccati. Quindi stiamo tutti insieme e uniti rispetto a questa protesta. Ma nello stesso tempo non possiamo pensare che se questi fondi praticamente a livello regionale non verranno trasferiti, il progetto si ferma qui. Io vorrei lanciare in questo caso anche una proposta, proprio in questo momento, al sindaco di Greci. Il Comune è un Comune che non ha difficoltà economiche. Se proprio non dovesse partire questo discorso perché i fondi rimarranno bloccati, allora partiamo con un mutuo a carico del Comune per finanziare il progetto e cominciamo a dare a queste famiglie ciò di cui hanno bisogno, una risorsa fondamentale per poter continuare a vivere in questa frazione. Qui ci sono anche dei bambini, insomma una frazione abbastanza abitata con varie famiglie e quindi non possiamo far sì che in un territorio in cui veramente tanti giovani se ne stanno andando via, tante famiglie se ne stanno andando via, una frazione che invece vive manca di quella che è una risorsa fondamentale. La mia proposta quindi è questa, ci sono i fondi, ci sono i fondi dell'energia eolica, ci sono 250.000 euro che entrano con il nuovo parco eolico nel Comune di Greci. A questo punto se proprio non si riescono a sbloccare questi fondi, partiamo con un mutuo a carico del Comune di Greci e diamo a questa frazione quella che è una risorsa fondamentale. Il sindaco è qui e può dare subito una risposta? Il Comune di Greci già ha messo a disposizione il 30% della somma per poter arrivare al completamento del progetto che si aggira intorno a 1.400.000. Il Ministero dell'Ambiente ha già trasferito alla Regione Campania, al settore Ambiente di Defesa Acqua, 958.000 euro, per cui il Comune di Greci ha già provveduto a coprire il 30%. Altro non può riuscire a fare. Possiamo partire con il nostro 30% e assieme a quello che l'Ato ci ha dato, però per il resto il grosso 70% ci deve arrivare per forza dalla Regione che ha avuto i fondi già dal Ministero.